E' tornato attivo dal 1 agosto il numero di telefonia mobile 333 78 60 505 che l'ADOC regionale, l'Associazione dei Consumatori Pugliesi, mette a disposizione di cittadini e turisti che vogliono segnalare disservizi, difformità o danni subiti nel corso delle proprie vacanze. Dalla qualità dell'offerta delle strutture ricettive, ben diversa da quanto pubblicizzato, alle difficoltà causate dai mezzi di trasporto, ritardi o inconvenienti di vario genere non giustificati o giustificabili. Viaggi che si trasformano in vere e proprie odissee, camere d'albergo invivibili, prezzi quantomeno esagerati, come accaduto ad un avventore di un bar in Puglia che per una manciata di cubetti di ghiaccio da mettere in un sacchetto di plastica si è visto chiedere la cifra di ben 3 euro. Questi alcuni dei casi finora segnalati all'Associazione dei Consumatori, che anche quest'anno non intende abbandonare a se stessi i cittadini e i vacanzieri, i quali, rivolgendosi all'ADOC, possono ricevere ogni utile informazione o suggerimento per districarsi tra i meandri e i raggiri riportati in qualsiasi foglio sottoscritto o nelle etichette stampate su qualsiasi prodotto acquistato durante l'estate, una stagione che, chissà perché, riserva sempre degli incognite, delle sorprese o anche dei paradossi. Proprio quando, invece, si avrebbe più bisogno di rilassarsi e vivere in tranquillità il proprio periodo di ferie, prima di rituffarsi nel lavoro e nel caos cittadino.